pronto al però non ha no io sono a casa sono a casa però c'è stato avevo sbagliato mettere indirizzo perché ho quella casa dei miei o anche proprio ma era uno scherzo vabbè era tutto uno scherzo delle iene vede ma non se non come si fa poi apre c'è adesso il mio problema però è perché qua volevo delle belle clip di sta di salai però mi sa che non riusciamo più a prenderli